incredibile amici incredibile vedo che tutti cantano ballo 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 ballotture mi ha scritto anche persone dicendo che hanno scritto alle tipe che hanno scritto nel ristorante tutti che cantavano questa canzone non so se l'hanno sentita da me o se comunque viene naturale farla dalla canzone della Carrà però mi fa piacere sentire tutti che la cantano e tantissimi tantissimi che mi avete scritto pensandomi al gol di ballo mi ha fatto piacere siamo riusciti a esorcizzare il fatto che dovesse giocare ballotture pensa che l'ho anche preso ieri al fantacalcio perché era uno nel fantacalcio quello che faccio con fantafoni eccetera perché era uno però non l'ho schierato ho messo il panchiero l'ho preso ho dato via ho preso tipo baiieie del torino non mi ricordo a uno ho detto almeno gioca non gioca in dieci cazzi se lo mettevo comunque parliamo della partita parliamo della partita allora la partita noi abbiamo iniziato molto bene cioè rientriamo nei ranghi migliore in campo dell'Empoli vicario perché ha fatto 3-4 miracoli migliore in campo del Milan leao quindi già ti fa capire di una partita dopo ballottore ovviamente di una partita che comunque il Milan ha iniziato molto bene ha avuto delle difficoltà soprattutto secondo me mentali nel momento in cui ti si iniziano a rompere tutti i giocatori cioè già partivi con 5 infortunati che tu hai fuori Ibra hai fuori Florenzi hai fuori Mignon hai fuori Tehernandez hai fuori Origi cioè tu partivi già da una base e messia di sei tu hai già parti da una base di sei infortunati parti da questa base durante la partita ti si rompono tre giocatori arrivi a nove capisci che anche mentalmente poi un po' comunque il clima un po' pioggia loro comunque che giocavano avevano fatto 16 tiri eh la partita è stata molto difficile a un certo punto sembrava quasi che non la portavi a casa più sembrava quasi che non la portavi a casa più ma l'avevi iniziata bene l'avevi iniziata con occasioni l'avevi iniziata giocando bene l'avevi iniziata dominandola potevi già fare uno due gol nel primo tempo nella prima mezz'ora soprattutto poi questi infortuni che hanno fatto abbassare sicuramente il livello è venuto fuori l'Empoli che è vero che ha tirato tante volte in porta grandi occasioni ne ha avuta una quella di Bayrami sull'errore grave di Tonali dove poi ti ha dato una mozzarella la parata da Tarusano e va bene quella è stata proprio la più clamorosa e poi sei riuscito a trovare il gol sei riuscito a trovare il gol una furbata so che qualcuno si lamenta ieri l'abbiamo rivista bene con Steve effettivamente Tonali batte 8 metri 7 8 metri più avanti di dove è uscito il pallone è una situazione strana perché Tonali batte dove ha fatto il contrasto con quello dell'Empoli non so chi che però non tira fuori dritto tira fuori verso la sua metà campo quindi la palla in realtà esce 8 metri prima di dove batte Tonali la ritengo una fesseria non un errore che grave dell'arbitro cose di questo tipo nel senso si batte sempre un po più avanti un po più dietro poi bisogna capire perché c'era Leao da solo lì e poi comunque Leao il gol se l'è creato perché Leao prende palla è in mezzo a tre ne salta tre e mette Rebic solo davanti al portiere anche Rebic non c'era cioè lì c'era Leao da solo Rebic appena Tonali fa la rimessa Rebic parte a 2000 e si fa trovare lì per fare gol tanto tre partite tre gol per ante Rebic quanto c'è mancato quindi qualche polemica su quel gol lì se lo annulla se lo annulla il VAR che dice no ha battuto otto metri avanti mi arrabbio però non posso neanche dire niente nel senso ha battuto otto metri avanti io pensavo meno e pensavo due tre in realtà sono otto metri avanti per per correttezza bisogna dirlo poi comunque quello era l'1 a 0 hanno fatto l'1 a 1 e noi poi siamo andati a fare il 2 a 1 e il 3 a 1 quindi magari non segnili con Rebic ne segni un altro cioè poi non lo so come va la partita andiamo a vedere i voti perché sono tante cose da dire tante cose da dire soprattutto su Pioli su Rischi sullo staff atletico ragazzi non parlerei neanche più perché ormai mi sembra veramente evidente allora Tataruzanu voto 5 gli devo dare 5 e mi dispiace perché l'errore sul tuo legrane cioè sul tuo palo una punizione sul tuo palo da 30 metri cioè non è una punizione al limite cioè andatevi a rivedere da dove ha tirato Bairami sarà almeno 10 metri fuori dall'aria cioè è lontano 30 no ma 20 metri tutti 20-22 metri sarà quella punizione lì come è possibile che questo tira da 22 metri e tu sul tuo palo sei posizionato male e hai un carro a trezzi dietro la schiena cioè come è possibile che non puoi prendere con la palla lì perché hai fatto il passo che non dovevi fare poi sei arrivato in ritardo capito? è un errore grave poi secondo me ha fatto una buona partita eh tolto l'errore finale secondo me cioè era una partita era 6 e mezzo Tataruzanu perché comunque con i piedi ha gestito bene infatti Pioli l'aveva detto in conferenza stampa che Tatar con i piedi sa giocare sinceramente mi ha anche sorpreso ha fatto anche dei lancetti cioè mi è piaciuto ieri per personalità come ha gestito la palla ha parato quella palla su Bairami sarà stata facile perché ha sbagliato Bairami tanto lui l'ha parata intanto lui l'ha parata e poi comunque aveva fatto una buona partita secondo me Tataruzanu quel gol 5 quel gol purtroppo è un errore grave è un errore grave cioè Mignani la stoppa di petto quindi quel gol è un errore grave e gli devo dare 5 mi dispiace mi dispiace però è così Calabria Calabria gli dare senza voto nel senso che comunque era partito bene stava facendo bene poi si è fatto male non gli do un voto che senso ha gli posso dare 6 più non ha molto senso dargli un voto il problema è vero che secondo me fino a gennaio non lo rivediamo per come è uscito non è uscito neanche sulle sue gambe è uscito in barella gli facciamo ovviamente gli auguri non stava bene da un po' non è andato in nazionale quindi in queste due settimane cosa avete fatto? cosa l'avete curato? cosa gli avete fatto queste due settimane? cioè questo non è andato in nazionale non è andato perché aveva problemi l'avete curato per due settimane e poi non si sapeva già da sabato anzi da domenica cazzo dico che oggi è sabato oggi è domenica si sapeva già da prima della partita che non stava bene l'hai voluto rischiare facendo riposare Calulu e poi ti si rompe fino a gennaio 9 di più ci sono gravi colpe non di Calabria ma di qualcun altro o di Pioli o di chi gli ha detto che stava bene qualche colpa ce l'ha eh beh 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 ragazzi parliamoci chiaro Kier voto 5 e mezzo non mi è piaciuto ieri Simon sapete che io stravedo per lui anche da infortunato anche lì Kier dice mi sono fatto male aspetta anche Tatar gli ha fatto aspetta che mi sono fatto male e non si capisce bene cosa combinano Tata batte ancora un po' prendiamo gol ancora un po' prendiamo gol ma mettiti seduto per terra perché la seconda volta ti sei seduto per terra e tutti si sono fermati? perché se ti sei fatto male ti siedi per terra la gente ti vede per terra non ci sono equivoci cioè cosa vuol dire che gli dice Tatarusano no ma perché non so cosa gli avrà detto perché se Tatarusano ha battuto sarà pure rimbambito Tatarusano non è per carità di Dio perché se ti dici aspetta un attimo e tu batti un po' normale non sei però se ha battuto è perché anche Kier non è stato proprio chiarissimo quello se sei ma siete per terra è andato pure a chiudere lui da infortunato è andato lui a chiudere quindi non ho capito quella situazione lì tolta quella situazione lì secondo me si è fatto infilare troppe volte ieri Simon ho visto almeno tre quattro volte i giocatori dell'Empoli arrivare da sinistra puntare su per Simon andare sul destro saltarlo e tirare troppe volte si è fatto saltare cioè troppe volte capisco che è più lento degli altri però bene o male riesce sempre a mettersi una pezza non ti fa tirare bene comunque ti sta addosso però l'ho visto un po' in difficoltà ieri sarà al campo sarà che non stava bene sarà che da tanto che chiedeva il cambio prima di farsi male ma il fatto di aver fatto già due cambi ha fatto sì che Pioli ha voluto aspettare quei due minuti in più che si facesse male comunque una partita da 5 e mezzo di Kier non mi è piaciuto particolarmente Tomori Tomori sei in mezzo Tomori invece mi è piaciuto una delle sue migliori partite stagionali quest'anno stava facendo così così un po' oscurato da Kalulu un po' anche lui non stava facendo benissimo ieri invece irreprensibile nel senso sempre addosso all'uomo cattivo aggressivo anche con personalità io ho visto fare un paio di impostazioni secondo me con personalità mi è piaciuto mi è piaciuto sicuramente quindi sei in mezzo per Fikaio Tomori meno male che sia un po' ripreso a me sinceramente non mi è mai dispiaciuto però quest'anno era un po' più appannato del solito qualche errorino di troppo anche lì ha preso un calcio un pestone non si capisce saltella e l'amberstra un po' di testa la mette dentro e ti sei fatto male stai addosso all'uomo poi dopo quando la palla esce saltelli non che stai lì saltellante in mezzo all'area quello va di testa o ti butti per terra urli cerchi di fermare il gioco o se no non puoi stare lì saltellante quello fa gol occhio occhio a sinistra ballo tour 8 è uno che decide la partita 94esimo gli devi dare 8 a priori a priori ovviamente sono tutti contenti di ballo da sballo che la risolve ha fatto un bel gol secondo me era facile ma non era così facile non era così facile al volo sul suo piede la piazzata di piatto tanti la ciccano tanti la prendono forte colpiscono il portiere poi dicono miracolo del portiere lui invece proprio la piazza tra il portiere il palo di piatto la mette lì secondo me ha fatto un bel gol gli ho visto fare 3-4 stop che tu mi dirai un giocatore di serie A fa 3-4 stop però vederli fare a ballo tour e ti dice è riuscito a stoppare incredibile siamo sbagliati poi altri 2-3 però gli ho visti 3-4 proprio che l'ha stoppata che non mi aspettavo che non mi aspettavo ha fatto una cagata incredibile quando ha tenuto in gioco l'uomo e poi si è buttato in scivolata per recuperare il suo errore la tocca un po' con la manina un po' con la schiena ecco mentre sul fallo laterale qualche ragione gliela posso dare quello era era un movimento comunque congruo e non sarebbe stato rigore però sai vecchi l'arbitro strano quello ti può fischiare di rigore tutto per errore per errore di Balloture bisogna dire anche che non ha mai spinto ieri non ha mai spinto cioè non si è mai proposto per andare a crossare mi dicevano quello che c'è qualcuno che mi ha scritto è quello che crossa meglio di tutti Balloture perché gli hanno visto fare l'unica cosa che gli hanno visto fare a Balloture è un cross una volta nella sua vita adesso perché è riuscito a fare un cross è quello che crossa meglio della squadra c'è gente che mi fa morire e comunque non l'ha mai spinto cioè se non avesse fatto gol gli avrei dato 5 e mezzo 5 e mezzo una partita onesta non ha fatto troppi errori sì quell'errorino lì che ha tenuto in gioco però aveva fatto la sua partita onesta gli avrei dato 5 e mezzo sono sincero poi il gol lo trasforma in 8 e Wai a chi tocca Ballot 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 Balloture compratevelo subito noi ve lo vendiamo sperando di non rivederlo mai più ma purtroppo col Chelsea giocherà lui andrò a vederlo dal vivo vado per lui vado allo Stanford Bridge per lui vannaia vannaia centrocampo Tonali voto 6 perché non mi è piaciuto in maniera particolare ha fatto un errore grave dove poi Bairami quasi segna a volte l'ho visto bello aggressivo bello cattivo bello che non la voleva perdere sta partita sia dopo il 2 a 1 proprio spazzate la terza categoria cattivo entrate belle toste questo anche nel primo tempo delle giocate interessanti altre meno il gol però è anche merito suo è vero che batte 8 metri avanti però lì la forbizia di prendere battere subito per le A.O. e andare a sbloccare il risultato è merito è merito comunque di Tonali quindi almeno il 6 glielo do non esagero perché non mi ha fatto impazzire però tra errori e cose positive rimane comunque più verso la sufficienza più quasi un 6 più che sull'insufficienza Benassert gli do 6 anche a Benassert lui è stato il migliore del Milan in tutte queste giornate di campionato ci ho abituato ogni volta a prestazioni penso forse gli ho dato sempre 7 forse un 6 e mezzo ma sempre comunque voti alti perché è stato sempre uno dei migliori oggi ha fatto comunque una buona partita secondo me non da farti brillare l'occhio non una partita da 6 non ha fatto male però non era neanche il Benassert delle altre partite quindi una partita secondo me da 6 era anche stanco arrivava dalla Coppa d'Africa si diceva tra l'altro si diceva che avrebbe fatto riposare uno tra Tonali e Benassert alla fine sono giunci due che hanno fatto 90 minuti tutti e due infatti c'era Pobega lì pensavo giocasse Pobega in realtà poi hanno giocato loro due e adesso con tutti gli infortunati che abbiamo almeno lì a centrocampo non penso che li cambierà vediamo vediamo cosa si inventerà Pioli per oggi parliamo delle Empoli che abbiamo portato a casa e parliamo di questo tra l'altro farò l'analisi anche di Juve Bologna quindi domani poi troverete l'analisi di Juve Bologna poi Salemeker ha sbagliato un gol ha sbagliato un gol che poi lì non lo so se era facile fare gol oggettivamente riguardandolo non era semplice fare gol lui la prende male e tira fuori quindi lui lui sbaglia in ogni calcio e anche se la porta fosse stata vuota lui comunque ha tirato fuori e quindi quando tiri fuori non è che c'è c'è la possibilità no? avesse magari preso un avversario o un'ennesima parata di Vicario lo potevo capire di più non era facile far gol perché c'erano tanti davanti però la porta riprende posso capire che non era facile però la porta devi prendere poi c'è te la para se la devi un difensore ok ma la porta devi prendere invece lo ha tirato proprio fuori ha fatto anche comunque delle cose interessanti lui si fa sempre trovare riesce in modo comunque di avere la palla nei momenti buoni decisivi però che poi sbaglia nel senso che poi non fa né gol né assist e si pasticcia ritorna torna indietro si incasina era una delle solite partite di Selmeker che poi magari nel lungo riesce a portare alla sufficienza in questo caso si è fatto male e quindi è rimasto un 5 5 e mezzo 5 più è rimasto comunque un'insufficienza non grave un 5 più 5 e mezzo un'insufficienza perché comunque è stato quello lì da dentro l'aria poi altri 2-3 pasticci un'insufficienza non grave che non ha avuto modo di rifarsi ovviamente perché si è fatto male speriamo non sia niente più grave Decatelar ho sentito tanti criticare Decatelar in realtà ha dato un cioccolatino a Leao inventato completamente la Decatelar perché qual'era una palla morta girato in mezzo a 3 lui la stoppa si gira salta l'uomo e tanti tanti quando fanno sta roba qua poi tirano senza guardare perché non hanno visto niente lui invece aveva già visto Leao prima prima Diaz l'uomo da trequartista si guarda prima gli dà la palla a Leao facile da buttare in porta fa un miracolo vicario sbaglia Leao in ogni caso era un cioccolatino quello di Decatelar poi ha fatto 2-3 spunti interessanti poi è calato poi è calato alla distanza è calato ci aspettiamo sicuramente di più da Decatelar io gli do 5 e mezzo gli do 5 e mezzo secondo me è il voto giusto ci aspettiamo sicuramente di più diventare con più continuita nella partita secondo me lui si sta adattando al campionato italiano e ai compagni e ha bisogno di tempo su questo cioè proprio di adattamento sui tempi di gioco perché comunque ha tutte le qualità per fare molto bene molto bene a certe volte lo vedi che prende salta l'uomo si organizza ha fatto un'azione sulla fascia e poi ha messo quella palombella e Vicario la bloccata fa la metti in attesa mettila dietro come fa Teo che la mette dietro per lo scarico diamogli tempo botto 5 e mezzo non sono assolutamente deluso io da Decatelar lo aspetto è un giocatore che mi piace e quindi lo aspetto però ieri 5 e mezzo a sinistra Leao 7 e mezzo migliore in campo migliore della partita lui entra in tutti e tre i gol tutti e tre i gol è merito di Leao perché anche il gol di Balotouré è un lancio di Leao cioè noi battiamo Leao non sale con gli altri si fa dare la palla da Benassere personalità cioè 92esimo tutti corrono su si fa dare la palla lui e crossa lui dove poi Krunic la tocca a Balotouré e poi fa il terzo gol vabbè lì tu una volta che sei partito e Leao è pari a te è già gol quello lì perché lui va è più veloce di tutti e fa gol poi fa un cucchiaio cioè un gol di qualità eccetera e il primo gol anche se lo metta lui ragazzi è vero che fanno una rimessa laterale però lì mezzo a tre si libera e senza nemmeno guardare sa già che Rebiceli e gliela dà ragazzi è migliore dicono che il miglior giocatore del campionato sicuramente sì sicuramente sì Quarascheglia sta facendo benissimo lo metto lì vicino a lui però Leao è una categoria è una categoria diversa è un'altra categoria Leao per me poi vorrei averli tutti e due magari a destra Quarascheglia e a sinistra Leao sarebbe bello adesso che si è rotto Messier si è rotto salemaker Bulis sul cielo che proviamo Rebic a destra col Chelsea chissà io ve la butto lì non credo non credo anche ieri ha messo Kroenic non credo però dato che tanto ci mancano gli uomini io te la butto lì Pioli ci mancano gli uomini e buttalo in campo ante Rebic e siamo un po' sbilanciati chi sarà mai sarà forse una soluzione da secondo tempo però non credo che Pioli parta così Giroud Giroud 5 e mezzo si ha preso la traversa su posizione più fuori che traversa nel senso non ho mai avuto l'illusione che fosse gol ha lottato ha dovuto lottare con Luperto che gli ha fatto fallo quasi sempre solo che Aureliano non fischiava mai non fischia niente quest'albitro qua qualcuno l'ha vinto qualcuno l'ha perso però non è stato mai pericoloso ha avuto un'occasione lanciato a rete e si è fatto recuperare lì almeno l'evitare in porta si è fatto recuperare non si è né messo davanti né in velocità se ne è andato via non è l'uscita della riporta c'è occasione almeno poi se la para vicario va bene però l'evitare in porta si è fatto recuperare dal difensore anche lì 5 e mezzo 5 e mezzo non posso dare lì più 5 e mezzo mi spiace ci serve un bomber che la risolve dalla panchina sono entrati allora calulu 5 e mezzo non mi è piaciuto oggettivamente sapete quanto amo io Pierre gli ho sempre dato voti altissimi non mi è piaciuto a destra due tre errori gravi voleva fare le cose ma non gli venivano poi si è rimesso in centro bene o male ha fatto abbastanza bene dal centro però non era il calulu solito io lo dico e lo ripeto specializziamoci nei ruoli poi adesso c'è il rotto florenzi il rotto calabria penso che lo vedremo purtroppo spesso calulu a destra quindi lo devi un attimo un po' reimpostare perché centrali li abbiamo abbiamo Gabby abbiamo Manuciao Kier vediamo come sta a destra abbiamo Sergino a dest e calulu ho paura che Pioli lo farà giocare spesso a destra in queste partite fino a gennaio perché Calabria non c'è quindi questo sballottamento destra centrale centrale destra a me non piace non piace però di necessità si fa virtù e vediamo adesso cosa si inventa ieri comunque una partita da 5 e mezzo per quanto riguarda Sergino Desti invece oggettivamente non riesco a dargli un voto cioè gli do SV non riesco a dargli un voto io l'avrei messo prima cioè l'avrei messo quando è uscito Sali Maker avrei messo Dest non Krunic avrei messo Dest non Krunic adesso non lo metterà più perché si è rotto Calabria e quindi penso che gli farà fare il terzino però avrei messo Dest io e non Krunic lo vedremo spesso Dest adesso tutte queste partite giocherà tutte le partite ve lo dico da adesso fino a novembre Dest gioca tutte le partite o da titolare o da subentrante gioca tutte le partite scrivetevelo perché o gioca lì al posto di Messia senza remaker o gioca al posto di di Calabria tutte le partite giocherà quindi avremo modo di vederlo ieri non riesco a dargli un voto è entrato non ha fatto niente di male niente di bene gli ho visto toccare tre palle quattro palle non so sicuramente ditemelo voi che voto gli devo dare sei che voto gli devo dare non lo so io gli do il SV perché non riesco a dargli un voto poi è entrato Diaz secondo me è entrato bene sei più è entrato bene con la voglia con la grinta poi c'è l'occasione le spreca ha avuto due occasioni ottime ottime non è riuscito né a fare assist né a fare gol ogni tanto si è perso nei suoi dribbling perdendo palla però la voglia la grinta era quella giusta dicevo proprio ieri quello che proprio manca a Diaz come trequartista è la visione di gioco prima di ricevere il pallone cioè Diaz quando riceve palla non sa cosa deve fare cioè lui la riceve la tocca tre quattro volte e poi decide cosa deve fare mentre invece il trequartista no cioè tu gli dai la palla Totti lui Costa quella gente lì no tu gli dai la palla tu devi già sapere dove sono i compagni cosa fare l'avete mai visto dare di prima la palla al compagno libero a Diaz non lo fa mai non lo fa mai lui deve deve sempre pensare prima come difenderla non farsela portare via la stoppa e dopo guarda questo gli manca questa è una cosa che però si può allenare Pioli questa è una cosa che si può allenare quindi ci sono allenamenti proprio specifici su questo sulla visione di gioco prima io consiglio di fare proprio un lavoro forte 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 su questo su Diaz perché se me è questo che gli manca proprio il fatto di vedere prima il compagno perché poi la tecnica ce l'ha la voglia ce l'ha deve imparare un po' più questo poi una delle tante cose poi è entrato Rebic 7 ragazzi ma quanto ci è mancato a te Rebic quanto ci è mancato spero che a Londra parta lui titolare a questo punto quanto ci è mancato a te Rebic e alla fine fa casino ieri invece è entrato bene boh la butta dentro tanto fa fa dei gesti che non si capiscono ormai quando segni l'altra volta non si capisce se è raffinatezza fa delle robe sue Rebic spiegaceli se vuoi fare dei gesti quando segni spiegaceli perché non capiamo cosa vuoi dire che sei caputo che cosa hai bevuto cosa ti sei bevuto cosa ti sei bevuto l'Erdia ti sei bevuto cosa ti sei bevuto perché non lo so non lo so comunque riguardo proprio il campo è tanto bene cattivo andava a recuperare su tutti ha fatto un gran gol 7 senza se senza ma penso di averli detti tutte sono entrati nella panchina in 5 Kalulu Sergino Rebic Diaz Krunic io ho trovato a Krunic voto 5 mi sembra che non io ho dato il voto a Krunic 5 non mi è piaciuto assolutamente poi ha fatto l'assist quindi 5 e mezzo perché ha fatto l'assist però non mi è piaciuto sbogliato non tornava perdeva palla non tornava Pioli l'ha richiamato un sacco di volte non mi è piaciuto ieri Krunic non mi è piaciuto tante volte magari mi piace ieri proprio non mi è piaciuto proprio come è entrato di testa forse non si è scaldato bene non lo so però non mi è piaciuto ieri Krunic poi qua l'assist per il gol tutto va bene però non mi è piaciuto come è entrato Pioli Pioli bisogna dividere il voto bisogna dividere il voto voto chiamiamolo infortuni che comprende il fatto di mantenere uno staff non adeguato perché Pioli dopo tre anni se ancora non hai capito che devi cambiarlo è grave tu la società e chi decide di tenerli e soprattutto non siete in grado come staff come Pioli che comunque è capo dello staff di capire se un giocatore sta bene sta male farlo giocare o non farlo giocare se Calabria ha problemi e tu lo fai giocare per far riposare Calulu che stava benissimo io ribadisco Calulu lo terresti in entrare e non lo farei giocare a destra però se stai rischiando Calabria di farsi male hai avuto due settimane non l'hai né curato né hai capito come stava è grave quindi il reparto chi è ti ha detto guarda toglimi sento qualcosa sento qualcosa finché non l'hai fatto stirare per cosa per 3-4 minuti in più cioè questi sono le gravi di infortuni staff medico eccetera su questo il voto è 2 e 2 proprio te lo sto regalando perché sarebbe 0 il voto sarebbe 0 ti do 2 per questione infortuni per quanto invece riguarda l'aspetto dell'allenatore perché poi io non lo so quanto Pioli interferisce in questo aspetto medico perché se lo staff ti dice no sta bene tranquillo può giocare lui lo fa giocare non è medico è un allenatore non è medico quindi io questo lo metto a parte perché non so quanta colpa c'ha Pioli sulla partita il voto è 7 partita preparata come sempre alla grande sia tatticamente che mentalmente siamo entrati bene giochiamo un bel calcio lo facciamo bene trova soluzioni anche ieri nelle difficoltà comunque lui trova soluzioni e fa sì che i giocatori non abbiano mai alibi tiene tutti sul pezzo sempre lui parla sempre bene di tutti persino di ballature che poi gli decide le partite e lui non dà mai alibi alla squadra e infatti la squadra qualunque cosa succede va avanti qualunque cosa succede va avanti l'arbitro gli infortuni ti segnano al 92esimo Pioli va avanti e questo è un gran merito oltre a prepararla praticamente in maniera perfetta e quindi devo dare 7 ma sarebbe anche 7 e mezzo 7 e mezzo e 2 non arrivi non arrivi al 6 quindi miglioriamo quel 2 perché sennò diventa grave iscrivetevi al canale se vi è piaciuta l'analisi fatemi sapere se vi va di avere analisi anche di altre squadre se ci sono tifosi di altre squadre che vorrebbero le analisi tranne l'Inter che non faccio perché non sono obiettivo ragazzi non riesco a fare l'analisi di una squadra che non sono obiettivo tutte le altre potrei farle partirò dalla Juve domani poi vediamo se aggiungere altre squadre se la cosa vi piacerà allora lo faremo iscrivetevi e sostenetevi ciao ragazzi alla prossima